Non è facile attraversare svariati decenni e continuare, ancora oggi, ad essere popolari e apprezzati da un pubblico trasversale, di under e over, di chi ha amato la musica degli anni 90 e di chi segue le ultime sonorità. Giorgio Prezioso rientra di diritto nella rosa dei più famosi di gay italiani, personaggi a tutto tondo, carismatici e in grado anche di intrattenere il pubblico anche fuori dalla console. Un amore con la musica che inizia quando ha 11 anni e, insieme ai genitori, entra in una discoteca romana. Mamma, papà, voglio fare il di gay, il percorso era già segnato. Il resto è storia della musica e della Nick Cliff italiana. Dall'amicizia e collaborazione con Giovanotti a quella con Andrea e Marvin, dalle esibizioni in tutto il mondo, di parata in festival, fino alla televisione e alla radio. A quest'ultima deve molto, ma è un amore reciproco quello che lo porta a giocare con il suo pubblico a 360 gradi. Qualche giorno fa, il radio, Prezioso ha anche remixato il discorso di Salvini a Pontida. Venerdì 6 luglio sarà il main guest della serata alle terrazze. Inglese, trapiantata come molti altri colleghi in quella Berlino che sembra incantare di gay di ogni parte d'Europa, e non solo, Paola Temple è stata ribattezzata da alcuni tema Shin-women. Nella sua bio-ufficiale e nelle interviste ama definirsi Noisy-chan, un artista di quello speciale rumore che fa ballare la gente, e la sua etichetta non poteva che chiamarsi Noisy-manifesto. I suoi gis e ibridi sono stati apprezzati al tresore Albert Gain, oltre che in un tour che l'ha già vista attraversare l'America. Venerdì 6 suonerà Alex Dogana marco.pasquachiocciolailmessaggero.it Copyright riproduzione riservata Giovedì 5 luglio 2018, ultimo aggiornamento, 14.29